Mi chiamo Cicala Sergio, sono nato a Carini 812-1944, dal 18 dicembre sono prigioniero da combattenti di Al Qaeda e ho un appello da fare al governo italiano, al Presidente della Repubblica e al governo Berlusconi. La mia libertà e quella di mia moglie dipende dalle concessioni che il governo è disposto a fare, quindi spero che al più presto il governo si interessi della nostra situazione e di conseguenza delle nostre vite. Aspettiamo fiduciosi che tutto ciò possa al più presto possibile concludersi nel migliore dei modi, naturalmente con la liberazione sia mia che di mia moglie. Il governo Berlusconi e il Presidente Berlusconi è sempre stato rinomato per la sua grande generosità. Spero tanto che mi possa aiutare e possa aiutare mia moglie.